Quattro anni fa le luci colorate, poltroncine, cocktail, oggi desolazione arrugginita senza neanche l'ombrellino nel bicchiere. Qui al Lido Marecchiaro la sera del 18 luglio 2008 c'era tutta la città a festeggiare un tratto di litorale recuperato e donato ai tranesi. Tre anni di lavori per un costo totale di un milione e mezzo di euro principalmente per fornire il Lido di un adeguato arredo e soprattutto servizi. Il Lido pur rimanendo pubblico è stato gestito da una società privata con cui il comune ha firmato un contratto. Nell'accordo erano previste la custodia e la sorveglianza del sito ed è proprio per questo che le immagini in destra non sconcerto. Perché il Lido non è custodito? Perché adesso è accessibile a chiunque con i risultati che vedete? L'affidatario della concessione è tenuto a pagare 20.000 euro l'anno al comune e quindi suo compito dovrebbe essere a maggior ragione tutelare il bene. Le attrezzature distrutte sono di proprietà della società ma i danni riguardano anche strutture comunali la cui riparazione adesso potrebbe gravare sulle tasche dei cittadini. Resta il profondo sdegno per chi ama il mare e passando di qua si trova in presenza di uno scempio del genere. Negli ultimi anni la struttura in legno utilizzata durante l'estate come punto ristore bar veniva parzialmente smontata e chiusa da tavole in sughero o compensato poste verticalmente. Oggi questa tradizione è andata persa e qualcuno purtroppo ne ha approfittato per fare razzia quasi un milione e mezzo per offrire ai turisti l'immagine di una città poco curata quasi un milione e mezzo per ricordare i tranesi che non è solo nel momento del bisogno che ci si dovrebbe preoccupare delle cose che si hanno a cuore.